Weekend di grande sport a Valstagna. Torna il campionato italiano di rafting e pararafting che vedrà impegnati gli equipaggi in una due giorni di emozioni con gare di slalom, rafting e idrospeed. I campionati italiani assoluti per tutte le categorie inizieranno sabato alle 13, domenica invece lo start è previsto alle 10.30 in località Villetta.